In una meravigliosa città italiana, in una giornata soleggiata autunnale, le strade sono animate, le persone passeggiano felici e i caffè all'aperto sono affollati. Nel frattempo un ragazzo con la sua bici elettrica raggiunge la stazione della sua città, sale sul treno sistemando la bici nell'apposito vano e poi in sella alla bici va dalla stazione alla caffetteria e raggiunge i suoi amici. In un'altra parte della città una ragazza proveniente dalla periferia esce di casa e prende la propria auto elettrica dalla ricarica domestica e raggiunge i suoi amici il centro città. Per ultimo una ragazza si sposta nel centro città su un monopattino elettrico che ha noleggiato tramite una delle app disponibili. Dal suo cellulare riesce a controllare il traffico e a arrivare puntuale anche lei all'incontro al bar con i suoi amici. I tre amici sono arrivati al bar e sono arrivati tutti puntuali nonostante stiano in una grande città. Ora sono pronti a fare la loro colazione. Nessun ritardo, nessuna anidride carbonica e polveri sottili prodotte. Obiettivo raggiunto! Migliorare la qualità della tua vita e della tua città è possibile. Scegli opzioni di mobilità individuale sostenibile e organizza i tuoi spostamenti con le app. Segui la campagna informativa. Smuoviamoci!